Ame! Dove sei finito? Ame! Ame! Ti stavo cercando! Su, vieni! Torniamo indietro e andiamo a prendere Yuki! Hana! Mi sei mancato. Ti chiedo scusa per tutta la fatica che hai sopportato. Non ho mai smesso di vegliare su di voi. Sì, questo lo sapevo. Hai fatto un ottimo lavoro con i bambini. No, io continuo a sbagliare. Non è affatto vero. Sia Yuki che Ame sono cresciuti come si deve. No, invece, sai, Ame... È vero, Ame! È sparito, non... Non riesco più a trovarlo. Ame! Non preoccuparti, sta bene. Però... Credimi, sta bene. Ame è un adulto adesso. Un adulto. Ormai lui ha scelto il suo mondo. Ame è un adulto.